Azzurra, ieri sera è venuto il vescovo. Dobbiamo parlare. Sta scherzando, vero? No. Credo che sia meglio che io me ne vada per un po'. Allora io vengo con lei? No, azzurra, questa volta non si può. Non sono io che faccio la differenza in lei. Io non ce la faccio a stare senza di lei perché lei è la mia guida. No. È lui la tua guida. Tu guarda in alto. E lui ti indicherà la strada. La posso abbracciare? Non lo so se ce la faccio. Se non ci provi, non lo saprei mai. Mi ha orregliato. Scusi, ma se le se ne va chi resta qui con me?